Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Con il video di oggi vedremo la seconda parte della mia collezione di penne colorate. Ma bando alle ciance, non dico altro e vi lascio subito il video. Ciao! Allora, adesso vi faccio vedere le penne colorate contenute in questo portapenne. Allora, abbiamo un kit di penne Bic, di classiche penne Bic colorate e altre penne Bic ma di un modello diverso. Ora, magari le sfilo un attimo, le tiro fuori così ve le faccio vedere meglio. Magari non ve le sfilo tutte, vi sfilo solo quelle colorate, tanto le altre quattro sono le classiche Bic blu, nera, rossa e verde. E c'erano appunto in questo kit anche queste qua colorate. Allora, vi faccio vedere la scritta, sono le Bic Crystal con la punta da 1,6 mm. E adesso le vediamo insieme. Abbasso un attimino l'inquadratura sul foglio così si possono vedere meglio. Allora, io da amante delle penne Bic non posso non amare anche queste penne qua. Una cosa che mi piace tantissimo di queste penne, in particolare di questo modello qua, è che hanno la punta cicciottina. La punta è da 1,6 mm, quindi è una punta cicciottina. E io le adoro. Ma guardate che tratto. No, poi il tratto è morbidissimo. È fluidissimo. No, io le adoro. Queste qua le adoro. Mi piacciono tantissimo. Veramente, queste sono ancora più morbide nella scrittura, nel tratto di quelle che vi ho fatto vedere prima della Faber-Castell, che comunque mi piacciono tantissimo. Ma queste sono, nel tratto, sono ancora ancora più morbide di quelle là. Stupende. E vi faccio vedere subito dopo anche queste altre, che sono quest'altro modello. Anche qua vi tiro fuori solo quelli colorati, perché tanto queste qua sono le... Oh, scusate, ero fuori. Vi stavo dicendo che ho tirato fuori solo questi colorati, visto che questi sono i colori classici delle Bic. E queste qui, con il packaging bianco, sono le Bic Crystal Up. Le proviamo insieme. Qui la punta è più fine, come vedete. Adesso faccio un tratto vicino a quelle altre e si vede che la punta è più fine rispetto a quelle altre. Anche queste sono bellissime, perché comunque il tratto è morbido, è fluido, come piace a me. E quindi io, ma ripeto, io sono un'estimatrice delle pene Bic, perciò mi piacciono un sacco. E mi piacciono tantissimo sia in questa versione che in questa. Procediamo con questo piccolo kit di penne colorate, acquistate anche queste nella cartoleria qua del mio paese. A cui non ho saputo resistere, vista la pucciosità di questa confezione troppo carina. E queste sono normalissime penne in gel. Ecco, adesso l'ho levato pure il tappo. Sono normalissime penne in gel, però dalla confezione veramente... Cioè, ditemi se non è pucciosa questa penna. E' bellissima, l'adoro. Infatti le mie bimbe, quando le hanno viste, me le volevano subito sgraffignare. Ma io gli ho detto, alt, fermi tutti, queste sono di mamma e non si toccano. No, vabbè, ovviamente gliele faccio toccare, gliele faccio usare, ma restano nella mia collezione, ecco. Tra l'altro, a parte questi disegni troppo carini che ci sono sopra la penna, ma poi sono anche proprio carine da toccare, perché sono tipo gommolose. E' un liscio strano, sono proprio tipo... ma non sono morbide, però non lo so, è una sensazione strana, ma sono bellissime. E tra l'altro, su queste penne qua c'è anche il nome, cosa che io adoro. Se avete visto qualche altro mio video, lo sapete che adoro dare i nomi e i colori. E quindi, qua abbiamo turquoise, turchese, proviamo. Ecco, purtroppo, come tutte quante le penne gel fanno questo lavoro qua, e se non le tieni dritte, purtroppo fanno questo lavoro qua, e vabbè, niente. Non riusciamo a vedere molto bene, adesso le metterò. Appena le metto via, le metto testa in giù, così l'inchiostro va giù. Lavender, lasciamo perdere la mia pronuncia. Questa, queste qua anche ce le ho da poco, quindi non le ho ancora mai sfruttate. E poi c'è hot pink. Queste le possiamo vedere tutte, questa è rosa fluo, praticamente. Mannaggia, ho paura che saranno tutte così, perché erano messe in un modo, purtroppo, che non dovevano stare. E, questo è peach, pesca, e purtroppo l'inchiostro sarà andato indietro, sarà un po' sceso. Peccato, ma adesso, appena le metto via, le metto testa in giù. E poi giallo, come si chiama questa? Ah, lemon. Giallo fluo, purtroppo fa sto difetto qua. Pazzesca, vabbè, il bianco, non so utilizzarlo, ma questo bianco qua, sul mio album, dai fogli neri, che vi ho fatto vedere prima, questa qua deve essere spettacolare. Va bene, le rimetto a posto dopo, e poi le appoggio a testa in giù. Vado avanti con questo, anzi, aspettate, aspettate, ho cambiato idea, quello ve lo faccio vedere dopo. Vi faccio vedere queste tre penne multicolor. Allora, abbiamo questa qui, della Papermate, diciamo sempre così, Papermate, 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 vabbè, lasciamo perdere, che ha quattro colori, azzurro, anche questa non è gel, ma sono penne normali, con l'inchiostro, tipo Bic, rosa, viola e verde. Allora, molto carina, scorrevole, morbida, qua c'è già bella che macchiata, è una penna che mi piace molto. Devo dire la verità che le penne cicciottose così, a livello di impugnatura, non mi fanno impazzire, però è comunque una penna carina. Questa qua, che vabbè, che cosa gli vuoi dire con questo, con questo unicorno super puccioso? No, è bellissima, è bellissima, che cosa vuoi dirgli? Niente. Abbiamo il rosso, il blu, il nero mi vuoi dire, ah, il verde, no, ero convinta, era, come mai che non scrive anche questa, non era testa in giù, benissimo, rimedierò subito. No, era da tanto tempo che non lo usavo ed ero convinta che fossero colorati, invece no, sono colori classici delle penne normali, però è bellissima, cioè è bellissima. Cosa vuoi dirgli? Niente, perché è bellissima. E poi abbiamo la classica Bic, no, non c'è scritto, sì, c'è scritto qua, Bic, anche questa dai quattro colori, viola, azzurro, verde e rosa. Anche questa è una penna molto carina, contratto classico da penna Bic, quindi inutile dire che mi piace un sacco. Purtroppo, come queste altre due, che sono un po' più cicciottose, a livello di impugnatura, questa tipologia di penne qua, che ha tanti colori, non mi fa impazzire. Anche se, appunto, i colori sono carinissimi e il tratto non è niente male. Mi ricordo che quando andavo alle elementari, credo, esistevano quei pennoni giganteschi che, altro che cicciottoni, erano il doppio di questi a livello di grandezza, che avevano tanti di quei colori, era proprio una penna, ma sicuramente ve la ricordate, e se avete la mia età, perlomeno, anche di questa se trovo una foto nel web ve la metto, anche quella purtroppo, ahimè, non ce l'ho più, ma me la ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo che ce l'avevo blu e che il tappo qua sopra era rotondo e aveva tutti questi gancettini che li tiravi giù e scendeva la punta della penna colorata e aveva tantissimi colori. Che ricordi, ragazzi? Sto facendo un viaggio nel passato stamattina. Allora, vi faccio vedere, credo che questa sia l'ultima penna colorata che ho da farvi vedere, poi faccio una piccola parentesi di altre penne. Allora, questa è una penna colorata delle Gorgeous, come potete vedere, che stranamente non è mia. E dico stranamente perché se qualcuno di voi ha già visto qualche mio video sa che io amo follemente le Gorgeous, quindi ho tantissime cose delle Gorgeous, ma questa penna qua in particolare non è mia, ma è delle mie bambine. Siccome la cartolaia del mio paese, qua dove vado spesso, che tiene le Gorgeous e mi vede un giorno sì, un giorno no, praticamente, no, vabbè, non esageriamo, sennò guai, sarei già in bancarotta, ma ci siamo quasi. No, vabbè, sto scherzando. Insomma, abbiamo fatto amicizia con questa ragazza che ha aperto la cartoleria qua nel mio paese, che è una ragazza tra l'altro simpaticissima. E una volta appunto eravamo andati, forse quella volta che eravamo andati a comprare gli zaini per scuola, se non mi sbaglio, delle mie bimbe, che sono delle, gli zaini di scuola delle mie bimbe sono delle Gorgeous, guarda caso, io non ho spinto, non ho invitato all'acquisto delle Gorgeous, assolutamente. Sto scherzando. Ovviamente, no, ovviamente piacciono tantissimo anche a me e di conseguenza le mie bambine, vedendo me così entusiasta delle Gorgeous, piacciono tanto anche a loro e quindi si sono scelte lo zaino per la prima elementare delle Gorgeous. E in quell'occasione, Daniela, penso di poterla citare, Daniela aveva regalato alle mie bimbe anche la penna colorata delle Gorgeous. Questa penna qua è fantastica, è una penna gel, perché man mano che si scrive e si consuma il primo colore, poi man mano la penna scriverà nei vari colori diversi. Quindi adesso inizierà scrivendo rosa, poi giallo, arancione, viola e così via, troppo carina. Ho tentato di rubacchiargliela alle mie bimbe, ma non me l'hanno mollata. E vabbè, sono andata a recuperarla un attimo nel cassettino della loro cameretta per farvela vedere. Ovviamente qua si vede solo rosa, poi man mano che andrà avanti cambierà colore. Però devo dire che per essere una penna gel il tratto è molto morbido, fluido e non ha neanche né sbavato, né fatto quei famosi trattini bianchi, molto bella. Dovrò cercare di convincerle di mollarmela, no, sto scherzando ovviamente. E adesso faccio una piccola parentesi per farvi vedere queste altre pennine che ho, che non sono propriamente penne colorate, ma sono penne pucciosissime, quindi non posso farvele vedere. Allora, sorvolando su questo bellissimo portapenne o portatrucco, portagioie, portateci quello che volete. Io ci ho messo le penne dentro, ma credo di averlo già fatto vedere nel video in cui vi mostravo tutte le mie cose delle gorgios. E dentro vi faccio vedere, ci sono altre penne delle gorgios. Allora, innanzitutto ci sono queste penne qua che sono state un regalo di una mia carissima amica. Ciao, vero? Insieme, che me le ha regalate, insieme a questo portapenne. Ecco, c'è Clio che abbaia. Cosa vuole adesso? Scusate un secondo che vado a vedere cosa vuole, che magari vuole uscire. Eccomi, scusate per l'interruzione, ma ho dovuto far uscire Clio. Allora, vi stavo dicendo, dentro questo portapenne ho queste altre penne delle gorgios, che vi faccio vedere così al volo, visto che stiamo facendo un video di penne. Allora, queste tre penne qua sono dei normali colori, quindi rossa, nera e blu. Perché non escono adesso? Volevo farvele vedere. Aspettate che... Per quello che vi dicevo, faccio una piccola parentesi, perché queste evidentemente non sono penne colorate, ma sono penne normali, classiche, dai colori classici intendo, delle classiche penne. Però sono cose... Oh, mi è rimasto un pezzettino! Però sono così belle, che veramente... Come faccio a non farvele vedere in questo video qua di penne pucciosissime? Sono troppo belle. Adesso le proviamo insieme. Ah, sono super fini. Figuratevi che non le avevo ancora mai provate. Perché erano talmente belle, così, a vederle lì, a guardarle nella loro confezione. Wow, ma sono veramente super finissime. Mamma mia che tratto... Si vedono? Sono queste, ecco. Sono molto, molto fini. Non so se dal video si percepisce quanti sono... Quanto siano fini. Guardate che punta. Ha una punta veramente micro. Ma c'è scritto qua? Forse nella confezione qua c'è scritto quanto è. Quanto è? Ah, 0,5 millimetri. Caspita! Sono veramente... Cioè, un mezzo millimetro di spessore di punta. Beh, wow, sono bellissime. Bellissime. Ma poi, cioè, guardate che... Guardate che disegni, che packaging. No, ma... Io odoro le gorgeous, c'è poco da fare. E qua dentro ci sono altre penne delle gorgeous. O togene in altra qua. Ah, ma allora me l'ero comprata alla fine. Eh, no, mi pareva strano, eh. Mi pareva strano che non ce l'avessi anch'io questa penna qua. Vabbè. Stendiamo un velo pietoso sulla mia memoria. Che non mi ricordavo neanche di essermela comprata anche io. Quella penna lì. E vabbè, queste sono tutte matite. Quindi con le penne colorate non c'entrano niente. Però, visto che ho preso questo portapenne delle gorgeous e vi mostro quello che c'è dentro. Tutte matite di diversi color. Non so se le userò mai. Perché sono bellissime. E quindi mi dispiace utilizzarle, temperarle. Perché sono veramente troppo, troppo belle. Ehm, per cui per adesso me le tengo qua. E scusate se mi impappino, se salto le parole, se mi mangio le parole. Ma io quando vedo le gorgeous non capisco più niente. Queste sono altre due penne, sono normali, nere se non mi sbaglio. Si scrivono nero. Eh, sono in gel. Eh, questa qua purtroppo mi si è rotta. Si è rotto al gancetto qua col suo ciondolino. Eh, si è rotto. Però io ovviamente la tengo lo stesso. Ecco qua. Adesso mettiamo via questo portapenne qua. E vi faccio vedere le ultimissime penne. Aspettate che alzo un pochettino l'inquadratura. Perché vi faccio vedere questa tazzona. Yeee! La tazzona piena di penne pucciosine. Che, ripeto, non sono propriamente penne colorate. Ma sono semplicemente penne pucciose. Eh, dunque, o penne o matite. Perché qua abbiamo, adesso ve le faccio vedere, due matite della Annecche. Che è una specie di, non so se la conoscete, ma è una, la vogliamo chiamare la concorrente delle gorgeous. Non so neanch'io se è giusto chiamarle così. Chiamarla così, però, guardate che carine. Che sono, sono troppo belline. È una linea che mi piace molto, anche questa. Anche se, devo dire la verità, tra queste e le gorgeous. Io sono innamorata delle gorgeous. Quindi sicuramente continuerei a scegliere le gorgeous. Però, anche questa è una linea molto carina. Ho visto delle borse molto carine, però non ho niente. Ho solo queste due, queste due penne qua. E dei segnalibri magnetici. Poi, questa è sempre una penna fatta coniglietto, pucciosina. Però è una penna. Ecco, adesso qua si sta anche sfilacciando. Devo poi magari sistemarla in qualche modo. Che scrive blu. Devo dire la verità che non mi ricordo da dove arriva. Un altro coniglietto, col nasino, anche un po' sporco. Perché, come vi ho detto, fanno parte della mia collezione. Ma le mie bimbe vengono sempre a ravanare qua tra le mie cose. Ma, giustamente. E questa si apre così. Ed è una penna gel nera. Con la palla. Questa qui, ecco. Questa me l'avevano anche rotta. Ma io l'ho rincollata. C'è il ciondolino col pompone e la faccia del gattino. Questa, se non mi sbaglio, arriva da AliExpress. E anche questa è una penna gel nera. Che carina. E poi ho la classica penna con la cokeshi di Tiger. Che ha... Qua non l'ho ancora tolto l'adesivo qua. Prima o poi lo toglierò. Che scrive blu. Ah, forse qua non scrive neanche più perché sarà finita. Perché è vecchissima. Questa è una delle prime penne... Oh, scusate. Vi ho fatto traballare. Una delle prime penne che avevo acquistato a Tiger. Quindi è bella che è finita. Questa è un'altra penna delle Gorgius. Che anche questa è finita. Però non la butto via perché è troppo carina. Penna diamantone. Super precious. Questa arriva da AliExpress. E non scrive perché la tengo per così per vedere il diamantone. Però essendo una penna gel l'inchiostro va giù e quindi poi non scrive. Adesso si ha deciso che scrive. Vabbè, ce l'ha con me sta penna. Comunque andiamo avanti. Una pennina con la gommina a forma di ape. Una bic dorata che purtroppo si è tutta rovinata qua. A forza di usarla e di scrivere purtroppo si è rovinata. Mi pare che si è blu. È una classica bic normalissima soltanto che ha il packaging tutto dorato. Però si è rovinata. Vabbè, però non la butto via. La tengo lo stesso. La penna a forma di banana non poteva mancare ovviamente. E anche questa è una classica penna tipo di AliExpress che è in gel con la punta fine fine. Ma è troppo carina. Oh, scusate, ero fuori. È troppo carina a forma di banana. Ecco, le famose Stabilo Point 88 di cui vi parlavo prima. C'è un esemplare solo, nero. Ne ho avuto e anche altre di altri colori. Ma non essendo le mie preferite non ne ho mai comprate tante. Ecco, e questo è l'ultimo esemplare che mi è rimasto. Le altre sono finite. Questa è una matita a scatto delle Gorgios. Un'altra penna col diamantone. Questa però è della... Mamma mia, non mi viene mai in mente quel nome lì. Ve ne ho parlato anche in uno degli ultimi video che ho fatto. È un kit americano, un kit mensile che ci si fa l'abbonamento. Ogni mese ti arriva una box con dentro un sacco di cose di cartoleria. Penne, stickers, fogli colorati, clips, charms per le agende. Purtroppo non so perché, ma non mi viene mai in mente il nome. Lo andrò a ricercare e ve lo scrivo qua. E questa è una delle penne che era arrivata con quel kit lì, bellissima. Anche questa sarà finita, presumo. Perché comunque la tengo così, quindi non può essere l'inchiostro che è scivolato indietro. Anche perché non è una penna a gel, è una classica penna tipo Bic. Però, cioè, è bellissima. Quindi, anche se è praticamente finita, la tengo. Questa è un'altra penna delle Gorgius uguale perché la mia amica me le aveva regalate due. Una con la palla verde e l'altra con la pallina questa qua rosa. Però una è finita, sono sicura che una è finita. E l'altra invece è ancora nuova perché, ecco, infatti, è questa qua che è finita. Però lo stesso non la butto perché è delle Gorgius e quindi non si tocca. Le ultime due penne poi vi saluto. Sarà venuto lunghissimo anche questo video qua. Anche se mi ero ripromessa di non farlo venire lunghissimo. Ah, questa è quella rotta, sì. Questa è una penna che avevamo acquistato in un negozio tipo di cinesi. L'avevano voluta le mie bambine perché qua ha l'unicorno. Vediamo se funziona ancora, sì, funziona ancora, si vede. Si illumina, c'è questo pulsantino che in teoria basterebbe mandarlo su ma evidentemente non funziona bene e non fa bene contatto e quindi bisogna tenerlo schiacciato per far illuminare l'unicorno. Ed era una penna blu. Ma come vedete la punta non c'è più perché mi si era rotta e aveva inondato praticamente questa tazza di inchiostro blu. Quindi quando me ne sono accorta ho tolto tutto, ho pulito tutta la tazza con l'acetone per le unghie, figuratevi, o con l'alcol, comunque fortunatamente è venuta pulita. E poi ho buttato tutto però la confezione della penna non l'ho buttata anche se la penna dentro non c'è più perché è troppo carina con l'unicorno. Poi ancora si illumina quindi assolutamente non l'ho buttata. E l'ultimissima penna pucciosa che vi mostro è questa penna qua che credo sia tipo un bastoncino di cioccolato con la sua glassa, lo zucchero, la fragola, non lo so. Non mi ricordo neanche da dove arriva questa penna, presumo da lì, express, sì, penso di sì. Anche questa è la, sì sì, sicuramente da lì, express, con la classica punta fine a gel. Bene, io dopo aver fatto questo ennesimo video lunghissimo ma che mi sono divertita fare in cui vi ho mostrato tutte le mie penne colorate e ho fatto anche una piccola parentesi di penne pucciosine vi saluto e vi ringrazio per aver guardato anche questo video alla prossima, ciao!